Prima assaggio di esodo estive ed è subito caos sulle strade. Il momento tanto atteso ma anche tanto temuto è arrivato. Le agognate ferie sono alle porte per la maggior parte degli italiani e questo weekend segna ufficialmente l'inizio delle partenze estive. Prime code e rallentamenti in autostrada aggrandate alla dogana di Brogeda. Traffico congestionato sull'autostrada a 9 in direzione nord, soprattutto alla barriera di Grandate dove in mattinata si è formata una lunga coda di auto. Il sito di autostrade per l'Italia segnalava code fino a 9 chilometri. Alla dogana di Brogeda si sono accumulati 5 chilometri di coda tra Como Centro e Chiasso. Non solo, code e rallentamenti in uscita a Como Monte Olimpino provenendo da Laenate. Situazione difficile anche sull'autostrada elbetica. Poco dopo l'alba al portale nord del San Gottardo la coda di auto raggiungeva già gli 11 chilometri di coda con attese di circa due ore. Autostrade per l'Italia per andare incontro agli automobilisti ha diramato il calendario estivo con le previsioni del traffico segnalando i giorni da bollino nero, i peggiori per mettersi in viaggio e quelli da bollino rosso. Il primo weekend a rischio per le partenze è proprio quello di oggi, il 21 luglio dove l'allerta da bollino rosso è stata segnalata sia per la mattina che per il pomeriggio. I prossimi giorni da tenere sotto controllo sono la mattina di sabato 4 agosto da bollino nero seguita da un pomeriggio con bollino rosso. Stesse previsioni anche per sabato 11 agosto, unica altra giornata considerata a rischio paralisi per quanto riguarda quest'estate 2018.